Vigilia di campionato per il Teramo che domani per la prima volta torna a giocare tra le mura di casa nel rinnovato stadio Gaetano Bonolis. Ieri la conferma anche da parte della Lega Pro che la gara con la Cavese si potrà giocare qui sul nuovo manto erboso, peraltro nell'impianto sono stati installati anche i seggiolini nelle due tribune. È un impegno complicato per la formazione di Bruno Tedino perché se la vedrà contro la Cavese di un Moriero già in discussione sulla panchina Blufonset. Due dubbi di formazione per l'allenatore biancorosso, il terzino sinistro con Tentardini che sembra in vantaggio su Di Matteo e poi la mezzala destra con LASIC che in questo momento sembra in vantaggio su Santoro. Queste le considerazioni del tecnico alla vigilia della partita con la Cavese che si aspetta quella scintilla che possa far partire la sua squadra dopo le due sconfitte con Catanzaro e Avellino. Sono onesto, io vado avanti sempre per dei principi più che per dei numeri che sono più importanti secondo me gli sviluppi rispetto a dei numeri che poi se noi mettiamo giù una squadra non si muove, non sviluppa, c'è una squadra piatta a seconda di come uno possa giocare. Noi dobbiamo partire secondo me dai primi 25 minuti di Avellino dove abbiamo fatto secondo me quattro occasioni da rete, due veramente molto importanti, concedendo due tiri da distante anche se importanti di Di Paolo Antonio, però dobbiamo partire da lì, cioè con personalità non è facile, il giorno del sud andrà a giocare in trasferta, il pubblico, nel momento in cui sei in porta una volta sembra che siano 20.000 a spingerti, quindi dobbiamo partire da lì e incrementare, restare magari in 11 e incrementare il lavoro cercando di essere un pochino più sostanziosi dentro l'area di rigore. Adesso sapete cosa manca? Una scintilla per accendere il motore, una vittoria, manca solo quello e domani dobbiamo fare di tutto per fare una vittoria, assolutamente. Lo dico facilmente, senza problemi. Tentardini di Matteo è un, come si dice, un dubbio, se è un ballottaggio, politica per ballottaggio, non mi piace. La politica non... è un dubbio che ho, me lo porto fino alla fine. Santoro Lasi che è un altro dubbio. Out Minelli per infortunio, che lunedì sarà sottoposto ad accertamenti medici, fuori anche Cianci per squalifica. Davanti potrebbe cambiare qualcosa, perché Mungo partirà certamente titolare, come conferma Tedino in conferenza stampa, ma potrebbe essere affiancato da Martignago in un 4-3-2-1, che potrebbe vedere Martignago e Mungo alle spalle dell'unica punta, Magnaghi. Quando l'alta intensità, la voglia, l'energia diventa frenesia, diventa chiaramente un avversario. Noi dobbiamo stare tranquilli, perché la squadra ha dei mezzi importanti, li avrà sicuramente quanto prima o non importa se proprio domani, però secondo me dobbiamo stare tranquilli, giocare a ritmi altissimi, cercare di fare quello che sappiamo fare. A Valdino sembrano 5.000 qui di terra, ci hanno fatto una festa e noi, lo dico senza problemi, a caratteri cubitali, noi ci vergogniamo anche di andare a salutare dopo la partita di Avellino che abbiamo perso, perché ci sentiamo, anche se non è così, ma ci sentiamo in colpa di non aver regalato anche e soprattutto a loro una vittoria importante.